Aeroporto del Salento ancora in tilt e ancora paralisi nei cieli di Puglia per il blackout dei collegamenti aerei a causa della nuvola vulcanica che ha paralizzato tutta l'Europa. La situazione sembrava volgere al miglioramento nelle prime ore del giorno. Dopo le cancellazioni di venerdì, sabato e domenica, l'ENAC, ente nazionale per l'aviazione civile, aveva disposto la riapertura dell'intero spazio aereo italiano a tutti i voli a partire dalle 7 di lunedì mattina. Sulla base del bollettino diffuso dal Met Office Vulcani Casha Advisory Center che confermava il miglioramento delle situazioni sull'area del nord Italia, circa lo stato della nube vulcanica islandese. Ma la situazione è precipitata nuovamente. A causa di un peggioramento registrato nel corso della notte, l'ENAC ha disposto nuovamente con urgenza la chiusura dello spazio aereo del nord Italia da quota 0 a quota 22.000 piedi dalle 9 di lunedì alle 8 di martedì. Aumentano gli aeroporti interessati alla chiusura dello spazio aereo. La nuvola arriva infatti fino ad Ancona. Chiusi Albenga, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cuneo, Firenze, Forlì, Genova, Milano, Linate, Milano, Malpensa, Parma, Pisa, Rimini, Torino, Treviso, Trieste, Venezia e Verona. Si continua a volare solo sull'aeroporto di Roma per cui i collegamenti non sono mai stati interrotti mentre restano ancora interdetti gli scali di Milano, Malpensa e Milano, Linate. Resta a terra ancora l'80% del traffico aereo su Brindisi ed il 70% dei voli su Bari. Lievì i disagi dello scalo del Salento mentre le compagnie aeree hanno disposto il rimborso dei biglietti e una nuova prenotazione del volo. Alitalia ha anche esteso il riutilizzo del biglietto di questi giorni entro il 31 maggio. Grazie.